Siamo con Luca Colombo, Country Manager Facebook Italia. Può Facebook essere uno strumento per le aziende per generare profitto? In generale Facebook ha una filosofia che è quella di creare quello che definiamo World of Mountain Scale, quindi un passaparola di una dimensione sicuramente rilevante. Quindi nel momento in cui un'azienda può generare una notizia, parlando del contesto in cui siamo oggi, oppure ha necessità di far conoscere un proprio prodotto attraverso appunto il passaparola. Facebook è una piattaforma che certamente amplifica tutto questo e può aiutare a raggiungere se vogliamo aumenti di fatturato o quantomeno a creare se vogliamo valore. Porto un esempio, Ticketmaster proprio recentemente ha ulteriormente incrementato quello che è l'integrazione con Facebook e già da quello che il lavoro fatto fino ad oggi ha rilevato come la condivisione di attività fatte dai propri consumatori, quindi nell'acquisto di biglietti, generi 5,30 dollari per ogni utente in più in termini di revenue, proprio derivanti dalla semplice attività di condivisione. Quindi rispetto alla domanda, oggi sono diversi esempi già che dimostrano come Facebook è in grado di generare valore per i consumatori e per le aziende. Grazie a Luca Colombo. Grazie a voi.